Foreign Service Institute. Italian Familiarization and Short-Term Course. Lesson 19. At the Office. Dialogue for Listening. Centralino, dica pure. Vorrei il numero di telefono dell'avvocato Paolo Frua via Indipendenza 69. Un momento, per favore. Il numero è 4808154. Grazie, buongiorno. Buongiorno, studio dell'avvocato Frua. Desidera? Vorrei fissare un appuntamento per il signor Simpson. Mi sa dire come si scrive, per favore? Certamente. Simpson. S come Salerno, I come Imola, M come Milano, S come Salerno, O come Otranto, N come Napoli. Grazie. Il signor Simpson è già venuto altre volte? No, viene per la prima volta. Ha bisogno di consultarsi per una pratica legale. Martedì 8 alle 11.30, va bene? Martedì 8 alle 11.30? Sì, va bene. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Dialogue for Repetition Centralino, dica pure. Vorrei il numero di telefono dell'avvocato Paolo Frua via Indipendenza 69. Un momento, per favore. Il numero è 4808154. Grazie, buongiorno. Buongiorno, studio dell'avvocato Frua. Desidera? Vorrei fissare un appuntamento per il signor Simpson. Mi sa dire come si scrive, per favore? Certamente. Simpson. S come Salerno, I come Imola, M come Milano, S come Salerno, O come Otranto, N come Napoli. Grazie. Il signor Simpson è già venuto altre volte? No, viene per la prima volta. Ha bisogno di consultarsi per una pratica legale. Martedì 8 alle 11.30, va bene? Martedì 8 alle 11.30? Sì, va bene. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Avvocato Avvocato Operator Centralino Centralino Come si scrive Come si scrive To come for a consultation Consultarsi To make an appointment Fissare un appuntamento Fissare un appuntamento Already Già Già Legal matter Pratica legale Pratica legale Office Studio Studio Is she He Coming Viene 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 Has she He Already Come È Già Venuto È Già Venuta Time Volta Volta The alphabet A Come Ancona A Come Ancona B Come Bologna B Come Bologna Ci Come Como Ci Come Como Di Come Domodossola Di Come Domodossola E Come Empoli E Come Empoli F Come Firenze F Come Firenze G Come Genova G Come Genova H H H H I Come Imola I Come Imola I Lunga I Lunga K K K K L Come Livorno L Come Livorno M Come Milano M Come Milano N Come Napoli N Come Napoli O Come Otranto O Come Otranto P Come Pisa P Come Palermo Q Come Quaderno Q Come Quaderno R Come Roma R Come Roma S Come Salerno S Come Salerno T Come Torino T Come Torino U Come Udine U Come Udine V Come Venezia V Come Venezia W Come Walter W W Come Walter X X Y Y Y Z Come Zara Z Come Zara Additional vocabulary Doctor's office Ambulatorio Ambulatorio Instant Attimo Attimo Tune up Messa a punto Messa a punto Telephone directory Elenco telefonico Elenco telefonico To be in the office Essere in sede Essere in sede Garage Officina Officina That is Ossia Pension Pensione Customer service Servizio utenti Weekly closing Turno Getting the feel of it Pronunciation practice Vorrei il numero di telefono Dell'avvocato Paolo Frua Via Indipendenza 69 Vorrei il numero di telefono Dell'avvocato Paolo Frua Via Indipendenza 69 Grazie Buongiorno Grazie Buongiorno Buongiorno Vorrei fissare un appuntamento per il signor Simpson Vorrei fissare un appuntamento per il signor Simpson Certamente Simpson S come Salerno I come Imola M come Milano S come Salerno O come Otranto N come Napoli Certamente Simpson S come Salerno I come Imola M come Milano S come Salerno O come Otranto N come Napoli No Viene per la prima volta Ha bisogno di consultarsi per una pratica legale No Viene per la prima volta Ha bisogno di consultarsi per una pratica legale Martedì 8 alle 11.30 Sì, va bene Grazie Buongiorno Martedì 8 alle 11.30 Sì, va bene Grazie Buongiorno Come si scrive il suo cognome Brown si scrive B come Bologna R come Roma A come Ancona U come Udine M come Milano Model 2 Come si scrive Cristaldi Cristaldi si scrive C come Como R come Roma I come Imola S come Salerno T come Torino A come Ancona I come Livorno D come Domodossola I come Imola Come si scrive Tanzi Tanzi si scrive T come Torino A come Ancona N come Napoli Z come Zara I come Imola Come si scrive di Dio Di Dio si scrive D come Domodossola I come Imola Staccato D come Domodossola I come Imola O come Otranto Come si scrive Ciascia Ciascia si scrive S come Salerno C come Como I come Imola A come Ancona S come Salerno C come Como I come Imola A come Ancona Come si scrive Brambilla? Brambilla si scrive B come Bologna R come Roma A come Ancona M come Milano B come Bologna I come Imola WL come Livorno A come Ancona Come si scrive Stracchi? Stracchi si scrive S come Salerno T come Torino R come Roma A come Ancona WC come Como H I come Imola Come si scrive gli annacci? Gli annacci si scrive I come Imola A come Ancona WN come Napoli A come Ancona WC come Como I come Imola Model 3 Martedì 8 alle 10 Va bene per lei? Ha detto martedì 8 alle 10? Giovedì 13 alle 9 Va bene per i signori? Ha detto giovedì 13 alle 9? Domenica 4 alle 5 va bene per lei? Ha detto domenica 4 alle 5? Sabato 5 alle 8 va bene per voi? Ha detto sabato 5 alle 8? Venerdì 16 alle 12 va bene per loro? Ha detto venerdì 16 alle 12? Lunedì 3 alle 11 va bene per lui? Ha detto lunedì 3 alle 11? Mercoledì 25 alle 13 va bene per lei? Ha detto mercoledì 25 alle 13? Model 4 Quando può venire? Lunedì 1 all'una Monday the 1st at 1 Lunedì 1 all'una Tuesday the 2nd at 2 Martedì 2 alle 2 Wednesday the 3rd at 3 Mercoledì 3 alle 3 Thursday the 4th at 4 Giovedì 4 alle 4 Friday the 5th at 5 Venerdì 5 alle 5 Venerdì 5 alle 5 Saturday the 6th at 6 Sabato 6 alle 6 Sunday the 7th at 7 Domenica 7 alle 7 Model 5 Lui farà il lavoro Ma sa farlo? La signora scriverà la lettera Ma sa scriverla? Lui spiegherà la lezione Ma sa spiegarla? La segretaria prenderà l'appuntamento Ma sa prenderlo? Io batterò a macchina la lettera Ma sa batterla? Loro prenderanno l'iniziativa Ma sanno prenderla? Noi spiegheremo la lezione Ma sapete spiegarla? Luca farà il discorso Ma sa farlo? Lei è già venuta altre volte? No, vengo per la prima volta Lui è già venuto altre volte? No, viene per la prima volta Loro sono già venuti altre volte? No, vengono per la prima volta Voi siete già venuti altre volte? No, veniamo per la prima volta Lei è già venuta altre volte? No, vengo per la prima volta Le signorine sono già venute altre volte? No, vengono per la prima volta La signora è già venuta altre volte? No, viene per la prima volta Model 7 Viene per la prima volta lei? No, sono già venuta altre volte Viene per la prima volta la signorina? No, è già venuta altre volte Vengono per la prima volta le signorine? No, sono già venute altre volte Venite per la prima volta voi? No, siamo già venuti altre volte Viene per la prima volta il signore? No, è già venuto altre volte Vengono per la prima volta i signori? No, sono già venuti altre volte Viene per la prima volta lei? No, sono già venuta altre volte Model 8 Rimane anche lui? No, è già rimasto altre volte È incluso anche lui? No, è già stato incluso altre volte Viene anche lui? No, è già venuto altre volte Resta anche lui? No, è già restato altre volte Esce anche lui? Esce anche lui? No, è già uscito altre volte Va anche lui a Napoli? No, è già andato a Napoli altre volte Arriva in anticipo anche lui? No, è già arrivato in anticipo altre volte 9 Translate the following sentences What time is it? Che ora è? When was the last time? Quando è stata l'ultima volta? How much time is left? Quanto tempo rimane? He worked there a long time Ha lavorato lì molto tempo How many times did they see her? Quante volte l'hanno vista? At what time did they see her? A che ora l'hanno vista? Listening comprehension Il figlio maggiore dei signori franchi Brian Si è iscritto a un torneo estivo di calcio Anche se negli Stati Uniti il calcio è uno sport poco conosciuto Un numero sempre maggiore di ragazzi e ragazze lo pratica Brian ha il ruolo di centravanti Nella squadra Don Bosco Che è la squadra della parrocchia San Giovanni La chiesa dove i franchi vanno a messa Due giorni alla settimana c'è l'allenamento E la domenica giocano la partita Ieri durante la partita Brian si è rotto una gamba L'allenatore ha telefonato al pronto soccorso più vicino Per richiedere un'ambulanza Che è arrivata dopo pochi minuti This is the end of lesson 19 Italian fast course Grazie a tutti